Anche se se ne parla poco, il ruolo della Corte di Giustizia all'Unione Europea è fondamentale. Sono di questi giorni alcune sentenze importanti a tutela dei cittadini europei. Una riguarda l'assoluto divieto per i produttori di autovetture di mettere qualunque meccanismo, qualunque congegno che modifichi il livello di emissioni delle vetture in maniera da farle superare i test mentre in realtà inquinano di più. Dall'altro, legato al famoso Dieselgate, una sentenza che condanna l'Ungheria per delle norme che violavano i diritti fondamentali dei migranti. Infine, una parere dell'Avvocato Generale della Corte che sostanzialmente boccia alcune delle norme della riforma giudiziaria polacca in quanto contraria ai principi fondamentali sia della Costituzione polacca che dell'ordinamento europeo. Insomma, un'azione a tutto campo a difesa dello Stato di diritto e a difesa soprattutto dei diritti dei cittadini europei.